Andrea Bonuomo, Sales Manager per Cinevideo. Questo è il nuovo mezzo che viene presentato qui all'IBC di Amsterdam e soprattutto è un salto più in là di Cinevideo. Voi che partite da un'applicazione ben specifica nello sport adesso avete un hobby van completo per presentarvi sul mercato per la ripresa multicamere. Le caratteristiche di questo mezzo e soprattutto ancora prima perché avete deciso di fare questo passo? Allora la nostra azienda si occupa soprattutto di riprese televisive con hobby van, siamo specializzati ormai dal 2012 in riprese hypermotion, abbiamo attualmente tre sistemi iMuvix 4K con l'opzione infinite che significa lavorare in triggerless e quindi in maniera differente da come lavoravano prima le camere hypermotion. Per offrire ai nostri clienti un servizio sempre più adeguato a quelle che sono le richieste del mercato e con una vista al 4K HDR che è il futuro della televisione abbiamo deciso di fare questo investimento di un hobby van che possa essere compatto ma allo stesso tempo ha degli spazi che possono ospitare grandi produzioni. Il mezzo ha attualmente circa 60 metri quadri di spazi operativi ed è un tre assi e non un trailer a differenza di un bilico ha una possibilità di manovra completamente diversa e la capacità di avere comunque spazi che normalmente venivano attribuiti solo a mezzi di grandi dimensioni come i bilici. È un mezzo a tripla espansione con due aree operative distinte e separate. Significa che il mezzo può ospitare a bordo due produzioni che possono essere la multilaterale e l'unilaterale piuttosto che una produzione 4K HDR in una porzione di mezzo e una produzione HD in un'altra porzione di mezzo con due accessi completamente separati in modo tale che i due broadcaster che possono lavorare all'interno dello stesso mezzo non si incontrano tra di loro hanno completamente due aree separate e anche due aree audio completamente separate. Queste due aree audio sono con dei mixer audio della Carrec Artemis. I due mixer hanno due core completamente separati ma sono collegati insieme tra di loro con il protocollo Hydra 2 della Carrec. Due core perché abbiamo pensato comunque soprattutto alla ridondanza e soprattutto a mantenere il servizio in qualunque situazione. Quindi significa che se un core dovesse morire e parliamo di core che comunque hanno doppia scheda cross point, doppia scheda DSP, è possibile svuopare in pochi secondi da una console all'altra e da un core all'altro. Quindi la console dell'audio principale può venire utilizzata per fare entrambe le produzioni, idem la console dell'audio secondario o comunque continuare a lavorare in maniera standard con due console che comunque condividono tutte le risorse. Il mixer video è un mixer video della Sony, l'XVS8000 con il nuovo control panel modulare l'ICPX7000. All'interno del mezzo ci sono tre paralleli di controllo del mixer, uno per la regia principale, nella regia principale c'è un altro sub panel per un assistente alla regia oppure un altro regista che si può occupare della produzione dei maxi schermi o led o via discorrendo e poi nella seconda regia c'è un altro banco che è sempre collegato all'unità principale però è completamente separato a livello organizzativo. Il mixer video ha 10 banchi effetti in HD e 5 banchi effetti in 4K e una peculiarità del mixer è che comunque può sulla stesso mainframe lavorare in 4K oltre HD e HD, il mixer fisicamente si splitta in due e si possono condividere le risorse a seconda delle esigenze di quello di cui c'è bisogno. Il numero delle camere che avete previsto ovviamente in 4K oltre che in full HD. Il mezzo può ospitare fino a 24 camere in 4K HDR e una cosa molto importante del mezzo è l'utilizzo del processore Sony HDRC 4000 che è un processore che permette di vedere in tempo reale cosa succede nel mondo HDR e nel mondo SDR e quindi valutare in tempo reale cosa si sta consegnando in HDR e cosa si consegna in SDR. Il processore può essere utilizzato anche per fare un upscaling dell'HD in HDR, quindi se abbiamo sorgenti HD può essere utilizzato per farle diventare in HDR con questo processore della Sony, comunque il processore può essere utilizzato anche per fare un downscaling dal 4K HDR al 4K SDR o viceversa. Mentre in full HD che numero di camere arrivate? Sempre 24 e una peculiarità del mezzo è che il mezzo è cablato in quad link ma anche in 12G. Ho visto che tutti i produttori si stanno spostando verso il 12G, è vero che si parla molto di IP ma il 12G è presente e lo stanno sviluppando. Il mezzo ha due layer di matrice, una matrice che si occupa dell'HD 3G e quindi del quad link che viene utilizzata in sample interleave e non in quadranti in modo tale da poter visualizzare sul monitor del controllo anche quello che succede in regia un'unica parte del segnale 4K. E poi c'è un'altra matrice della ROS Ultrix 64x64 12G che viene utilizzata per tutto il layer 12G, quindi camere, sistemi replay, registrazioni e consegne segnali. Concludiamo con la presentazione anche di quelle che sono le caratteristiche dell'Intercom. Abbiamo scelto un Intercom della RIDEL, sempre con doppio core, RIDEL Artist 128 e con un altro core da 32 sempre di backup, il discorso della ridondanza e del mantenimento del segnale e poi siamo equipaggiati con un nuovo sistema wireless Bolero, che è un sistema innovativo della RIDEL per le comunicazioni wireless che può essere utilizzato sul campo per dare come un pannello di una stazione Intercom, ma wireless. E con questo penso che possiamo davvero concludere questo incontro qui nel mega hobby van della Cinevideo. Andrea Bonuomo e Antonio Franco per DigitalProduction.tv Ehi Walter Notices Ehi William Notices Ehi